Bentornati sul Spish and Bar Channel, il nostro telegiornale e da quanto che non ci vedevamo con questo appuntamento settimanale, oggi pure in ritardo perché per problemi tecnici abbiamo dovuto spostare le edizioni delle 19.30 alle 22, ma sì appunto la nostra ultima edizione penso che si è diventata storia, ormai già da quando l'abbiamo fatta non non lo ricordo già più, Palloritico, quindi tra poco dopo i titoli l'edizione locale di Pallor. Abbiamo due nuovi episodi australiani, lunedì sera una grandinata colpisce il padovano e siamo andati per voi a visitare l'Expo Bici, queste altre notizie del telegiornale. Bene, eccoci qui, siamo tornati, dopo i titoli, molte le notizie appunto di cui dobbiamo parlarvi questa sera, intanto se ci avete seguito saprete che siamo andati con On The Road in Australia, quindi il servizio del nostro inviato stesso, che ci dirà quando inizieranno e potremo vedere gli episodi di On The Road Australia. Va bene signori di Spiegelberg Channel, oggi per voi siamo nel mezzo della foresta, del nulla, chiamiamolo come vogliamo, solo per voi e per On The Road. Veramente adesso noi stiamo girando i nuovi episodi dell'Australia, e se non moriamo in mezzo a spine, porcospini, canguri e cose varie, perché in qualche mese dovremo anche riuscirci a farvi vedere qualcosa. Quindi rimanete sempre connessi su Spiegelberg Channel, e prossimamente forse, se state buoni, e se io non mi ammazzo qua, riceverete qualche sorpresina. Buon attenzione! Bene, adesso passiamo alle notizie, perché in piazza alle stazioni ritornano le macchine. Padova è l'unica città che invece di andare verso l'ecologico e quindi aprire il centro alle bici e ai pedoni, apre la stazione invece alle macchine. Già pronta la viabilità, le strisce per i ciclisti sono state spostate in dentro verso la stazione, mentre appunto dove c'erano prima i ciclisti è stato messo il punto dove possono accedere le macchine. Già pronti i semafori e la nuova viabilità. Bene, ecco dopo la Tari, arriva anche la Tasi sulle teste dei parmani, perché non ne bastava una e si calcola che appunto siano circa 28 o 29 milioni da riscuotere solo qui e appunto la prima rata andrà pagata entro il 16 ottobre, mentre la seconda entro il 16 dicembre per la Tasi. A Campione sono stati anche inviati dei bollettini a alcune persone già precompilati, per il resto bisognerà andare a rivolgersi presso o il comune, quindi il Prato della Valle oppure presso i Sinai. Adesso parliamo di politica perché le elezioni provinciali di cui i parmani non sono molto partecipi perché tagliati fuori completamente con il voto, si svolgeranno tra poco e appunto vedranno gli sfidanti Barison e Soranzo, sindaci rispettivamente di Albignasego e Selvazzà, sfidarsi per il posto alla provincia. Un temporale intorno alle 21 di lunedì ha provocato leggeri danni, soprattutto per la grandinata. Nelle immagini che state vedendo appunto si può vedere i grandi chicchi caduti a Padova e provincia. La fiera chiude in positivo, ecco i bilanci della manifestazione Expo Bici, sicuramente una manifestazione innovativa, molti rappresentanti delle varie marche e durante appunto la manifestazione è anche stata premiata l'European Cycling Challenge che era stata appunto indetta dal comune di Padova e che era una sfida appunto tra città europee e a chi faceva più chilometri e Padova appunto si era classificata a maggio settima. Adesso passiamo alla pagina sportiva perché i biancoscudati di Padova battono 2-1 il Mori mentre appunto il Cittadella perde 1-2 contro la Provercellia e il Tomorato. Bene, con questo io concludo, vi do appuntamenti, prossimi appuntamenti con On The Road e con il tre giornale giovedì prossimo all'orario normale 19.30. Vi saluto e buona settimana! Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori